Regime forfettario 2024. Quali sono le novità nel regime forfettario 2024? Ma anche come funziona questo regime, a chi è rivolto, quante tasse si pagano, quanti contributi INPS si pagano, quando conviene scegliere il forfettario e quando invece non conviene. Tutto questo all'interno di questo video completo. Sì, perché ogni anno realizzo una guida completa sul regime forfettario, parlando appunto di quelle che sono le novità della nuova legge di stabilità, ma anche spiegando esattamente tutto quello che c'è da sapere. Per chi decide di aprire una partita in regime forfettario o anche per chi magari ne ha già una. Quindi segui fino in fondo questo video e ti svelerò tutti i trucchi e tutti i segreti del regime forfettario. Esattamente come procederò. Come primo passo ti parlerò appunto dei vantaggi del regime forfettario 2024 per poi passare a spiegarti cosa è e a chi è rivolto il regime forfettario. Come funziona dunque, quali sono i suoi vantaggi, come si calcolano le tasse in regime forfettario, quando bisogna scegliere il regime forfettario e quando non è conveniente sceglierlo, come si calcolano i contributi IMSS in regime forfettario, come funziona la fatturazione elettronica nel regime forfettario e infine ti parlerò invece di cosa posso fare per te. Prima di iniziare una breve presentazione. Io sono Gian Piero Teresi e in Italia sono considerato come lo specialista del regime forfettario. Sono l'autore del mio blog regime-forfettario.it, un blog che è nato diversi anni fa e che è diventato ormai punto di riferimento di tantissimi professionisti, commercianti o artigiani che decidono di aprire una partita IVA, in questo particolare regime di vantaggio. Sono anche l'autore di alcuni libri a tematiche fiscali, ultimo appunto al regime forfettario 2023, a breve uscirà anche la versione 2024, disponibile su Amazon sia in versione cartacea che in versione ebook. E sono anche l'autore di questo canale YouTube dove settimanalmente inserisco nuovi video, nuovi contenuti riguardanti il mondo del regime forfettario. Ma iniziamo subito col primo punto. Quali sono le novità del regime forfettario 2024? Ogni anno la legge di stabilità può modificare il regime forfettario, lo ha fatto ad esempio anche l'anno scorso, non lo ha fatto quest'anno, quindi il regime forfettario mantiene quasi tutto identico rispetto al 2023, ma con una importante novità. È diventata infatti obbligatoria anche per tutti i titolari di partita IVA in regime forfettario l'utilizzo della fatturazione elettronica. Se fino all'anno scorso la fatturazione elettronica per i forfettari era dovuta soltanto in alcuni casi, ad esempio per chi aveva incassato nel 2021 e 2022 più di 20.000 euro nell'anno, adesso invece diventa obbligatorio per tutti i soggetti. Sia chi ha aperto partita IVA ad esempio durante il 2023, sia per chi apre una nuova partita IVA in regime forfettario nel 2024, diventa obbligatorio l'emissione di fatture elettroniche. Naturalmente le fatture possono essere sostituiti, dipende dal tipo di attività, dall'emissione di ricevuta o di scontrino, ma sempre in formato elettronico. Cosa è quindi una fattura elettronica? Cosa cambia rispetto al passato? Il cambiamento principale è che, se prima potevi emettere una fattura digitale cartacea, che stampavi, conservavi e inviavi al tuo cliente in formato PDF, o la consegnavi brevi mano in modo cartaceo, adesso tutto ciò non è possibile. Per emettere fattura dovrai utilizzare un software di fatturazione elettronica. Ce ne sono molti a disposizione, anche uno messo a disposizione gratuitamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate, dove dovrai compilare la fattura, inviare elettronicamente e il tuo cliente a questo punto la riceverà in formato elettronico. Ho creato già su YouTube diverse guide su come si emette una fattura elettronica, ti lascio il link qui anche in allegato, ma ti parlerò poi esattamente di come funziona anche alla fine di questo video. Quindi, fatturazione elettronica 2024, obbligatoria per il forfettario, unica novità per coloro che decidono di aprire adesso una partita IVA nel forfettario. Tutti gli altri vantaggi del regime forfettario e tutte le modifiche apportate negli anni sono confermate in blocco anche nel 2023. Importante conferma anche del limite degli incassi, che nel 2023, come saprai, è stato aumentato a 85.000 euro, rimane fisso a 85.000 euro anche per il 2024. Quindi, tutti i vantaggi in blocco confermati nel regime forfettario di cui adesso ti voglio parlare. Ok, quindi passiamo al punto successivo. Cosa è il regime forfettario e soprattutto a chi è rivolto? Il regime forfettario è l'unico regime di vantaggio esistente in Italia, ideale per tutti i professionalisti, freelance, commercianti o artigiani che decidono per la prima volta di immettersi nel mondo del lavoro perché garantiranno loro una serie di vantaggi fiscali e contabili che gli altri regimi fiscali non potranno assolutamente garantire. Possono però aderire al regime forfettario soltanto delle ditte individuali, quindi delle partite IVA aperte a proprio nome e cognome. Se stai pensando quindi di costituire una società, ad esempio una società di persone, una società di capitali come ad esempio un SRL, oppure un'associazione, oppure una cooperativa, sappi che in tutti questi casi non potrai aderire al regime forfettario. Vale soltanto per ditte individuali. Quindi se vuoi aprire una ditta individuale rispettando determinati requisiti potrai farlo in regime forfettario, ma anche se già ne possiedi una, ad esempio il regime semplificato ordinario, puoi decidere rispettando determinati requisiti di passare al regime forfettario. Iniziamo subito con questa distinzione. Chi è già titolare di partita IVA e chi deve aprirne una. Chi è già titolare di partita IVA può aderire al regime forfettario a patto che nell'anno precedente abbia incassato meno di 85.000. Quindi ad esempio se sei già titolare di partita IVA e nel 2024 vuoi aderire al forfettario, nel 2023 devi aver incassato meno di 85.000 euro a questo punto. Già dal primo gennaio 2024 potrai iniziare a emettere fatture in regime forfettario. Non è quindi necessario comunicare all'agenzia dell'entrata il cambio di regime. Ti basterà iniziare ad adottare il forfettario iniziando ad emettere fatture con le sue regole. Ho parlato di incassi e non di fatturato perché il regime forfettario funziona secondo il principio di cassa. Quindi vale soltanto tutto ciò che viene incassato e pagato nell'anno. Quindi ad esempio se hai emesso fatture per più di 85.000 euro durante il 2023, ma ne hai incassate al massimo 85.000, ugualmente potrai aderire al forfettario. Altro requisito da rispettare per chi è già titolare di partita IVA è non aver sostenuto delle spese per dipendenti o collaboratori superiori a 20.000 euro nell'anno precedente. Quindi allo stesso modo se stai pensando di aderire al regime forfettario 2024 è necessario che nel 2023 tu non abbia sostenuto delle spese per dipendenti o collaboratori superiori a 20.000. Se hai superato questa soglia sappi che nel 2024 non potrai stare nel forfettario. Rispettando quindi questi semplici requisiti potrai decidere di adottare il regime forfettario già dal 2024, ma sempre se ne avrai convenienza. Sì, perché il forfettario non è sempre conveniente per tutte le attività ed è per questo che in questo video ho inserito una sezione dove spiego quando è conveniente passare in questo regime e quando invece conviene adottare il regime semplificato. Ok, invece se stai pensando di aprire una nuova partita IVA qui voglio spiegarti tutti i requisiti che devi possedere per poterla aprire in regime forfettario. Iniziamo subito con coloro che sono anche dei lavoratori dipendenti. Sì, perché in alcuni casi è possibile essere contemporaneamente dei lavoratori dipendenti e in più decidere di aprire una partita IVA in regime forfettario. C'è però un requisito da rispettare, cioè che nell'anno precedente non dobbiamo aver percepito dei redditi da dipendente o da pensione lordi superiori a 30.000 euro. Quindi se nel 2023 il tuo reddito da dipendente o anche da pensione è superiore a 30.000 euro lordi sappi che nel 2024 non potrai aprire una partita IVA in regime forfettario. Potrai farlo in regime semplificato ordinario. Se invece il reddito è inferiore a quella cifra potrai immediatamente procedere anche all'apertura della partita IVA in regime forfettario. Esiste però una casistica che lo permette. Chi ha un reddito da dipendente superiore a 30.000 euro lordi ma questo cessa entro il 31 dicembre dell'anno precedente ugualmente potrà aprire una partita IVA in regime forfettario. Per cui ipotizziamo che tu abbia un reddito da dipendente nel 2023 di 50.000 euro lordi ma che questo reddito sia cessato entro il 31 dicembre del 2023. Allora ugualmente nel 2024 potrai decidere di aprire una partita IVA in regime forfettario anche se l'anno precedente hai percepito più di 30.000 euro lordi. Altro requisito da rispettare è che non può aprire partita IVA in regime forfettario chi è contemporaneamente socio di società di persone. Per cui se fai parte di una SAS o di una SNC allora sappi che non sarà compatibile con l'apertura di una partita IVA in regime forfettario. Inoltre non possono aderire a regime forfettario tutti quei soggetti che vogliono iniziare una di quelle attività per i quali è stato già introdotto un regime speciale IVA. Mi riferisco quindi alla partita IVA agricola o chi si vuole occupare di vendita di monopoli di Stato oppure agenzie di viaggi oppure network marketing dunque vendita diretta o vendita di beni usati. Per tutte queste attività esiste già un regime speciale IVA e quindi se stai pensando di effettuare queste attività devi scegliere quel regime speciale IVA e non potrai quindi stare in regime forfettario. Una partita IVA in regime forfettario non potrà aprirla neanche un soggetto che non è residente fiscalmente in Italia a meno che non sia fiscalmente residente in uno dei paesi membri dell'Unione Europea e che dimostri di passare almeno il 75% del tempo fisicamente in Italia. Allora in questo caso ugualmente anche un residente estero nell'Unione Europea potrà aprire partita IVA forfettaria. In alcuni e limitati casi non potrà accedere a regime forfettario o chi fa parte di società di capitali come ad esempio SRL. Vi spiego meglio. Nel caso in cui tu dovessi controllare una società per cui possedere il 50% o più di quote societarie potrai contemporaneamente avere una partita IVA in regime forfettario solo se società e regime forfettario si occupano di due cose completamente diverse tra di loro. Se invece non controlli una SRL per cui ne possiedi meno del 50% a quel punto sarà comunque possibile possedere delle quote societarie o anche esserne amministratore e in più avere una partita IVA in regime forfettario. Non potrai aderire al regime forfettario nel caso in cui tu dovessi emettere fatture in modo prevalente verso il tuo attuale datore di lavoro o ex datore di lavoro per il quale sei stato dipendente negli ultimi due anni. Per spiegarti tutto ciò ti faccio un esempio. Ipotizza di aprire partita IVA in regime forfettario e in un anno emettere fatture per 30.000 euro. Potrai fatturare al tuo ex datore di lavoro con il quale sei stato dipendente negli ultimi due anni o attuale datore di lavoro meno del 50%, quindi meno di 15.000 euro. Più di 15.000 euro per cui più del 50% dovrai fatturarlo verso altri clienti che non hanno a che fare con il tuo ex datore di lavoro. Se è così, bene. Quindi se apri partita IVA e fatturi verso il tuo ex datore di lavoro una parte minima fallo pure nel forfettario ma se stai aprendo partita IVA per fatturare totalmente o la maggior parte del tuo fatturato verso il tuo ex datore di lavoro o attuale datore di lavoro sappi che non puoi farlo in regime forfettario. In questo caso apri una partita IVA in regime semplificato ordinario. Ok, abbiamo terminato i requisiti. Ti ho parlato appunto di tutti i requisiti che dovrai possedere per poter aprire una partita IVA in regime forfettario. Se li rispetti tutti tira un sospiro di sollievo perché finalmente voglio parlarti di quali sono i vantaggi di cui godrai nel caso in cui decidessi di aprire una partita IVA in regime forfettario che ti ricordo è il regime di vantaggio l'unico esistente in Italia che molti freelance commercianti artigiani libri professionisti prendono in esame proprio per iniziare la propria attività. Quindi se stai iniziando adottività sicuramente devi conoscere il regime forfettario e capire se fa per te. Passiamo quindi ai vantaggi. Primo vantaggio sicuramente quello più conosciuto da tutti è la tassazione più bassa. Nel regime forfettario infatti le tasse sono pari al 5% per i primi 5 anni per tutti i soggetti che hanno i requisiti da start-up diventano poi 15% dal sesto anno in poi. La tassazione del 5% è la tassazione più bassa esistente in Italia ma anche in Europa. Ecco perché è così vantaggiosa. Perché l'alternativa è quella del regime semplificato dove la tassazione che si chiama IRPEF va dal 23 al 42% in base ai vari scaioni di reddito e inoltre nel regime semplificato oltre l'IRPEF si pagano gli addizionali comunali gli addizionali regionali l'IRAP una serie di imposte in più. Nel regime forfettario c'è un'unica tassazione che si chiama imposta sostitutiva che appunto è pari al 5% per i primi 5 anni 15% dal sesto anno in poi che racchiude quindi tutte queste imposte. Secondo grande vantaggio del regime forfettario 2024 è l'esenzione IVA. Chi emette fatture in regime forfettario non dovrà applicare e aggiungere l'IVA ai propri compensi. Quindi ad esempio se emetti una fattura da 1000 euro non sarà 1000 più IVA ma sarà 1000 punte e basta proprio perché l'IVA non c'è. Perché un vantaggio è un vantaggio soprattutto per i tuoi clienti che non dovranno quindi in più pagare ai tuoi compensi l'IVA dovuta in fattura. Questo ti renderà quindi più competitivo rispetto alle alternative del regime semplificato ordinario quindi un cliente di solito tende a scegliere un fornitore un professionista che sia in regime forfettario perché a lui non dovrà pagare l'IVA. È un vantaggio soprattutto per le persone fisiche che quindi non possono recuperare e scaricare l'IVA e che quindi in quel caso la risparmiano totalmente. Inoltre essere esenti da IVA significa essere esenti anche dalla dichiarazione IVA trimestrale dalla dichiarazione IVA annuale una serie di burocrazia in meno che quindi ti permetterà di concentrarti esclusivamente sul tuo business. Altro vantaggio del regime forfettario è l'esenzione dalla ritenuta d'acconto. Oltre a essere esente IVA infatti nel regime forfettario non c'è neanche la ritenuta d'acconto. Coloro che sono invece dei professionisti in regime semplificato ordinario ma anche chi emette delle ricevute di prestazione occasionale vede decurtarsi i propri compensi del 20% a titolo di ritenuta d'acconto che viene trattenuto dal committente che poi lo versa come imposte. Quindi un professionista in regime semplificato ordinario nel caso in cui emette una fattura da 1000€ non è in cassa 1000€ ma è in cassa 800€ perché 200€ vengono trattenuti a titolo di ritenuta d'acconto. Nel regime forfettario la ritenuta d'acconto non c'è quindi nel caso in cui un professionista emette una fattura da 1000€ l'incassa totalmente senza alcun tipo di trattenuta. Quarto e ultimo vantaggio ma non meno importante del regime forfettario 2024 è la sua semplificazione contabile. Come già ti ho anticipato il regime forfettario è senta IVA quindi non avrai da fare la dichiarazione IVA trimestrale la dichiarazione IVA annuale non avrai di settore non avrai lo spesometro l'esterometro non dovrai versare l'IRAP le addizionali comunali e regionali non avrai neanche l'obbligo di registrazione delle fatture ma soltanto obbligo di emissione numerazione e conservazione delle stesse quindi davvero una burocrazia semplicissima che non ti farà perdere tempo nell'amministrazione e che quindi potrai dedicarlo alla crescita della tua azienda al miglioramento del tuo business. C'è però un grande limite da rispettare nel regime forfettario per poterlo utilizzare adesso e negli anni futuri e cioè un limite di incassi dal primo gennaio del 2023 il limite di incassi è stato innalzato a 85.000 euro annuali quindi fino a quando incassi al massimo 85.000 euro durante l'anno potrai rimanere in regime forfettario e utilizzarlo anche per gli anni successivi qualche parola in più c'è da spendere nel caso in cui dovessi superare questo limite di incassi sì perché nel 2023 la legge è cambiata ed è stata confermata anche nel 2024 quindi se tu superi il limite di incassi di 85.000 euro ma non superi il limite di 100.000 euro durante tutto l'anno sarai comunque considerato in regime forfettario con la tassazione del regime forfettario e uscirai fuori dal regime forfettario il primo gennaio dell'anno successivo quindi ad esempio se durante il 2024 dovessi incassare 90.000 o 95.000 euro tutti gli incassi 2024 verranno considerati in regime forfettario con la tassazione al 5 o al 15% dal primo gennaio 2025 dovrai invece passare al regime semplificato se invece dovessi durante l'anno superare l'incasso di 100.000 euro allora uscirai immediatamente dal regime forfettario e anche tutto ciò che hai incassato precedentemente verrà considerato come regime semplificato ordinario inoltre dovrai applicare l'iva su tutti gli incassi superiori a 100.000 euro anche in questo caso ti faccio un esempio ipotizza di aprire partita iva durante il 2024 e già nel 2024 superare i 100.000 euro tutti gli incassi ottenuti nel 2024 non saranno considerati in regime forfettario ma bensì in regime semplificato con l'applicazione quindi dell'IRPEF che come ti ho detto va dal 23 al 42% di tassazione e inoltre per tutti gli incassi oltre i 100.000 euro dovrai emettere fattura applicando l'iva secondo il tuo tipo di attività quindi se hai soltanto una possibilità di poter superare i 100.000 euro di incassi non aprire partita iva in regime forfettario vai direttamente nel regime semplificato ordinario possiamo adesso passare al punto successivo cioè come si calcolano le tasse in regime forfettario il metodo di calcolo delle tasse del regime forfettario è l'innovazione più importante che è stata introdotta in questo regime fiscale sin dalla sua nascita per cui sin dal 2016 nel regime forfettario infatti sono stati introdotti i cosiddetti costi forfettari in pratica lo Stato ipotizza in modo forfettario appunto quelli che sono i costi che ogni attività può scaricare quindi nel regime forfettario non potrai portare in deduzione ciò che realmente acquisti ma i tuoi costi aziendali da scaricare sono stati già identificati tramite un coefficiente che si chiama coefficiente di redditività che appunto identifica in modo ipotetico tutto ciò che hai speso quindi per ogni attività esistente o meglio per ogni codice ateco di attività lo Stato ha già stabilito qual è la percentuale di costi che quell'attività può scaricare per spiegarti meglio il funzionamento del coefficiente di redditività e quindi il calcolo delle tasse mi aiuterò con degli esempi per tutti coloro che sono ad esempio dei commercianti è stato introdotto un coefficiente di redditività del 40% per tutti coloro che sono artigiani è stato introdotto un coefficiente di redditività più o meno del 67% per tutti coloro che sono dei liberi professionisti invece è stato introdotto un coefficiente di redditività pari al 78% naturalmente le cifre che ti sto dicendo sono degli esempi anche perché poi bisogna identificare il proprio codice ATECO identificare qual è l'esatto coefficiente di redditività al quale è stato assegnato però più o meno queste tre categorie le ritroverai in questi tre coefficienti di redditività iniziamo quindi dai commercianti col coefficiente di redditività del 40% questo significa che se un commerciante ad esempio incassa 10.000 euro lo stato ipotizza che soltanto il 40% di questi per cui 4.000 euro sia il vero e proprio utile e allo stesso modo lo stato ipotizza che la restante parte è il 60% per cui 6.000 euro nel nostro esempio il commerciante li abbia spesi per la propria attività ad esempio per l'acquisto dei prodotti per la spedizione degli stessi per il pagamento del personale per qualsiasi altro costo aziendale quindi il commerciante verrà tassato solo su 4.000 euro mentre su 6.000 euro non verrà applicata alcun tipo di tassazione naturalmente d'altra parte il commerciante non potrà scaricare portare in deduzione alcun tipo di costo qualsiasi cosa dovesse acquistare prodotti servizi affitti utenze personale non potrà portare in deduzione perché scarica in automatico questo 60% di costi forfettali quindi anche nel caso degli artigiani che invece hanno un coefficiente del 67% si fa lo stesso ragionamento su un ipotetico incasso di 10.000 euro lo stato ipotizza che il 67% per cui 6.700 euro sia il vero e proprio utile sul quale calcolare le tasse del 5-15% il 33% per cui 3.300 euro lo stato ipotizza che l'artigiano li abbia spesi per la propria attività e quindi quella quota di fatturato non verrà tassata e non verranno neanche calcolati eventuali contributi inps come avrà intuito così anche nei professionisti che invece hanno un coefficiente del 78% soltanto appunto il 72% degli incassi verrà tassato sul nostro esempio di 10.000 euro un professionista verrà tassato solo su 7.800 euro e solo su questa quota verranno anche calcolati eventuali contributi inps sulla restante parte per cui su 2.200 euro non verrà tassato perché lo stato ipotizza che li abbia spesi per svolgere l'attività da professionista quindi per farla breve lo stato ha già ipotizzato quali sono i costi che ogni attività può scaricare secondo queste percentuali già stabilite dall'attività stessa quindi qualsiasi costo un professionista un commerciante un artigiano dovesse sostenere ad esempio affitti, utenze materie prime collaboratori, utenze non potrà scaricarli perché scarica già i propri costi forfettari attenzione però perché c'è un'altra cosa che possono scaricare i forfettari oltre appunto il coefficiente di redditività che sono i contributi previdenziali pagati nell'anno precedente riprendendo quindi l'esempio di prima dove un libro professionista è incassato 10.000 euro e viene tassato su 7.800 euro se quel professionista ad esempio l'anno precedente dovesse aver sostenuto delle spese per i propri contributi previdenziali ad esempio pari a 2.000 euro potrà sottrarle dai 7.800 euro quindi verrà tassato col 5% di tasse o 15% e in più i contributi verranno calcolati non più su 7.800 ma a questo punto soltanto su 5.800 euro quindi oltre i propri costi forfettari oltre i propri contributi se pagati nell'anno precedente a quel punto non potrai più scaricare nulla questo ragionamento ci dà quindi lo spunto per passare al punto successivo quando a questo punto è conveniente scegliere il regime forfettario e invece quando non lo è per capire quindi la convenienza nello scegliere il forfettario o meno come prima cosa dovrai analizzare quelli che sono tutti i tuoi costi aziendali cioè tutte le spese che dovrai sostenere per la tua attività e confrontarle con i costi forfettari che invece lo Stato ti farà scaricare in modo automatico e capire se i costi reali sono inferiori pari o superiori ai costi forfettari che invece lo Stato ti farà scaricare appunto nel regime forfettario anche in questo caso ti spiego questo concetto con un esempio prendiamo l'esempio precedente sempre di quel libro professionista che abbia incassato in un anno 10.000 euro sul quale lo Stato applica il coefficiente di redditività pari al 78% e quindi ipotizza che questo professionista abbia speso 2.200 euro se i tuoi costi reali cioè tutto quello che spendi durante l'anno collaboratori utenze software qualsiasi altra spesa rientra è sotto o supera di poco questi 2.200 euro il regime forfettario è sicuramente la scelta più opportuna e conveniente se invece i tuoi costi reali dovessero essere molto superiori a questa cifra cioè ad esempio incassi 10.000 euro ma ne spendi 5.000 o 6.000 per pagare dipendenti collaboratori utenzi affitti allora il forfettario non va assolutamente bene per il tuo business a questo punto devi scegliere di aprire una partita IVA in regime semplificato che è vero che avrà una tassazione più alta ma è anche vero che questa tassazione verrà in effetti applicata sul tuo reale utile e potrai quindi scaricare portare in deduzione tutti i costi reali che hai sostenuto naturalmente per valutare tutto ciò per valutare nel tuo caso specifico la convenienza di aderire o meno al regime forfettario ti consiglio di consultarti con un commercialista o con un esperto fiscale in modo da capire nel tuo caso qual è la soluzione migliore eventualmente ti anticipo ma te ne parlerò anche alla fine di questo video io posso aiutarti eventualmente hai la possibilità di richiedermi una consulenza gratuita sarò io stesso insomma a chiamarti e parleremo di tutto ciò e valuteremo se nel tuo caso il forfettario può essere la scelta conveniente o meno bene adesso siamo pronti per passare al punto successivo abbiamo parlato di cos'è il regime forfettario quante tasse si pagano adesso invece parliamo dei contributi previdenziali sì perché il pagamento delle tasse non è l'unica cosa di cui dovrai occuparti in regime forfettario in quasi tutti i casi sarà necessario versare oltre le tasse anche i propri contributi previdenziali ai fini pensionistici per parlarti di come funziona il calcolo dei contributi previdenziali bisogna innanzitutto dividere tutte le attività possibili in tre grandi categorie la prima categoria è quella formata da tutti i liberi professionisti senza un albo di appartenenza in questo caso mi rivolgo appunto a tutte quelle attività professionali ma che non hanno una cassa autonoma a quale versare i contributi mi rivolgo ad esempio a coloro che sono dei consulenti dei webmaster social media manager amministratori di condominio personal trainer traduttori insomma a tutti i liberi professionisti senza un albo di appartenenza la seconda categoria invece è formata da tutti quei liberi professionisti per la quale è previsto un albo di appartenenza è una cassa autonoma al quale versare i contributi in questo caso mi rivolgo ai medici geometri architetti ingegneri commercialisti avvocati biologi nutrizionisti insomma tutti quei professionisti che possono versare i propri contributi a una propria cassa autonoma la terza categoria invece è formata da tutti i commercianti o gli artigiani ma comunque da tutte quelle attività che hanno l'obbligo di essere iscritte in camera di commercio e che versano i propri contributi a delle casse apposite che in questo caso sono la gestione artigiani INPS e la gestione commercianti INPS tutte queste tre categorie pagano quindi i propri contributi previdenziali in modo diverso chi con una quota fissa e chi soltanto con una quota variabile in percentuale ma adesso vediamo di evidenziare uno per uno il funzionamento di queste categorie partiamo dalla prima categoria che è quindi quella formata dai liberi professionisti senza un albo di appartenenza tutti i liberi professionisti quindi senza un albo di appartenenza hanno un grande vantaggio quello di non dover pagare dei contributi INPS fissi o minimani come invece accade ad esempio nelle altre gestioni quindi non ci sono dei contributi INPS da versare anche in assenza di fatturato ma soltanto in percentuale su un fatturato prodotto questi contributi infatti vengono versati alla gestione separata INPS che è un fondo nato appunto per includere tutti quei professionisti che non hanno un albo di appartenenza permettendo loro di versare i contributi ai fini pensionistici la gestione separata INPS prevede quindi una percentuale che è quella dal 2024 pari al 26,23% di contributi INPS da versare quindi in assenza di fatturato un libro professionista senza albo di appartenenza non deve pagare nulla né tasse né contributi effettua quindi questi pagamenti soltanto nel caso in cui dovesse fatturare quindi un consulente un amministratore di condominio un personal trainer un grafico un traduttore un consulente informatico pagherà tasse e contributi soltanto in presenza di fatturato in assenza di fatturato non pagherà nulla tra l'altro le tasse e contributi INPS andranno calcolate come abbiamo visto non su tutto il fatturato ma solo sul coefficiente di redditività quindi prendendo in esempio il professionista che ha incassato 10.000 euro in un anno a questo abbiamo visto che verrà applicato il coefficiente del 78% quindi la base imponibile sul quale calcolare le tasse sarà appunto 7.800 euro ma la stessa base imponibile sarà anche per il versamento dei contributi INPS quindi il 26,23% di gestione separata INPS andrà calcolato solo su 7.800 e non sul totale fatturato la restante parte quindi 2.200 euro non verrà tassata e neanche i contributi INPS sarà necessario versare su questa quota aprire quindi una partita IVA da freelance sarà meno rischioso avrà un rischio imprenditoriale più basso proprio perché se dovesse andar male in assenza di fatturato non ci sarà nulla da pagare la seconda categoria invece è formata appunto da tutti quei professionisti che hanno un albo di appartenenza e una cassa autonoma al quale versare i contributi premessa in Italia esistono più di 20 casse professionali e ognuna di queste ha dei metodi di calcolo di pagamento dei contributi totalmente diversa però più o meno quasi tutte le casse richiedono due tipi di pagamento un contributo soggettivo e un contributo integrativo il contributo soggettivo di solito è una quota fissa annuale da pagare anche in assenza di fatturato che però per i nuovi iscritti alle casse di solito viene ridotta ad un terzo per i primi tre o cinque anni per cui nei primi anni di attività questi professionisti pagheranno un contributo soggettivo ridotto e poi dal quarto o dal sesto anno andranno a pagare invece una quota piena di contributo soggettivo il contributo soggettivo invece è una percentuale che di solito è pari al 4% in alcuni casi 2% che va invece calcolata su tutto il fatturato annuale questo però di solito non pesa nelle tasche dei professionisti perché possono addebitare questa quota 2 o 4% in più in fattura e farla pagare ai propri clienti finali la terza categoria invece come ti dicevo è formata da tutti coloro che sono dei commercianti o degli artigiani ma anche di tutte quelle altre professioni che hanno l'obbligo di essere iscritti in canale di commercio come anche gli agenti immobiliari gli agenti in attività finanziaria o gli agenti di commercio tutte queste attività come ti dicevo pagano ai propri contributi alla gestione commercianti o alla gestione artigiani la gestione commercianti o artigiani al contrario della gestione separata prevede invece una quota fissa minimale da pagare che è di solito pari a circa 3.800 euro annuali suddivisi quindi in 4 rate trimestrali da circa 900 euro a trimestre che seguono delle scadenze ben precise che sono 16 febbraio 16 maggio 16 agosto 16 novembre quindi coloro che sono commercianti o artigiani pagano questi contributi minimali che sono fissi che saranno quindi da pagare anche in assenza di fatturato il versamento di questa quota minimale quindi pari a circa 3.800 euro copre eventuali commercianti o artigiani fino a un utile di circa 17.000 euro se un artigiano o un commerciante dovesse superare quest'utile oltre la quota minimale dovrà versare dei contributi chiamati in eccedenza che sono pari al 24% appunto sulla parte eccedente il minimale quindi ipotizza di raggiungere un utile attenzione utile non fatturato pari a 20.000 euro annuali i primi 17.000 saranno coperti dal punto di vista contributivo con i 3.800 euro che è versato i 3.000 euro eccedenti il minimale quindi 3.000 euro che eccedono i 17.000 euro su questi verrà calcolato il contributo eccedente IMS che è pari al 24% attenzione però perché per tutti coloro che sono iscritti in gestione commercianti o in gestione artigiani IMS il regime forfettario ha previsto un'agevolazione infatti è facoltativo ma è possibile richiedere la riduzione del 35% dei propri contributi IMS quindi la quota minimale nel caso di richiesta di riduzione del 35% passa da circa 3.800 euro a circa 2.600 euro annuali quindi le quattro rate trimestrali fisse da pagare anche in assenza di fatturato passano da circa 900 euro a circa 650 euro trimestrali naturalmente anche in questo caso si parla di vuote fisse da pagare trimestralmente anche in assenza di fatturato richiedendo la riduzione del 35% dei contributi viene ridotta anche la quota eccedente il minimale per cui quel 24% di cui ti parlavo da calcolare su chi ha un utile superiore a 17.000 euro anche quella viene ridotta del 35% e passa a circa il 16% di contributi da calcolare sulla quota eccedente attenzione però perché richiedere la riduzione del 35% significa da una parte risparmiare immediatamente sul versamento dei contributi previdenziali da altra parte significa versare meno contributi ai fini pensionistici per cui per raggiungere il minimale per la nostra futura pensione probabilmente ci metteremo quindi più tempo esiste una particolarità di forfettari che non versa ai contributi IMS sto parlando di tutti coloro che sono ad esempio dei lavoratori dipendenti full time con un contratto pari a 40 ore settimanali e che contemporaneamente al proprio reddito dipendente vogliono aprire una partita IVA con iscrizione in canale di commercio e iscrizione alla gestione commercianti IMS mi rivolgo ad esempio a chi vuole aprire un e-commerce o far dropshipping o qualsiasi attività iscrivibile alla gestione commercianti in questo caso in presenza di un reddito full time sempre inferiore a 30.000 euro lordi l'esenzione dal pagamento dei contributi sì infatti i contributi che il proprio datore di lavoro versa per il nostro reddito dipendente sono gli unici che pagheremo quindi per la partita IVA e per il reddito prodotto a forfettario non pagheremo più contributi IMS saremo esentati quindi al pagamento sia della quota minima quei 3.800 o 2.600 eventualmente ridotti sia sulla quota eccedente al minimale quindi non pagheremo completamente contributi IMS ma l'unica cosa che pagheremo saranno le tasse pari al 5% o 15% possono richiedere l'esenzione IMS quindi soltanto coloro che sono full time iscritti in gestione commercianti IMS non possono essere esentati al pagamento dei contributi coloro che invece sono dei lavoratori dipendenti e che in più effettuano un'attività per la quale è necessaria l'iscrizione una gestione separata IMS o per coloro che sono in gestione artigiani soltanto gestione commercianti IMS passiamo adesso al punto successivo cioè l'obbligo di fatturazione elettronica anche per coloro che sono in regime forfettario che è appunto la novità del 2024 per chi ha per partita IVA o per chi ha già partita IVA nel forfettario la fatturazione elettronica è stata introdotta in Italia per chi ha un regime semplificato un regime ordinario per chi gestisce una società già nel 2019 e poi successivamente introdotta nel forfettario qualche anno dopo ma soltanto per coloro che avevano incassato più di 20.000 euro quindi fino al 31 dicembre del 2023 tantissimi soggetti non erano ancora in obbligo di fatturazione elettronica tutti questi soggetti diventano obbligati alla fatturazione elettronica dal primo gennaio del 2024 anche nel forfettario non preoccuparti però perché mettere fatture elettroniche è davvero semplicissimo e ti darà anche una serie di vantaggi innanzitutto non dover stampare più in modo cartaceo le fatture e inviarle ad esempio via mail al cliente con il dubbio se l'abbia ricevuto o meno avrai il vantaggio di non dover più acquistare le marchie da bollo cartacee e al tabacchio ed applicarle fisicamente su tutte le fatture ma potrai pagare i bolli dovuti per tutte le fatture superiori a 77,47 euro ogni tre mesi semplicemente con un modello F24 avrai inoltre tutto a portata di mano all'interno del tuo software e qualsiasi software dovessi utilizzare anche all'interno del tuo cassetto fiscale dell'agenzia delle entrate dove potrai accedere consultare le tue fatture consultare quelle emesse quelle ancora da incassare insomma una gestione molto più professionale precisa e attenta con la fatturazione elettronica inoltre ad esempio coloro che decidono di essere seguiti da me diventare nostri clienti avranno in più il nostro software di fatturazione che è davvero facilissimo da utilizzare e che tra l'altro calcolerà già in anticipo quante tasse e quanti contributi dovrai pagare ogni volta che emetti una fattura in modo da non aver sorprese sui futuri pagamenti dei tuoi F24 la fatturazione elettronica può essere effettuata con dei software anche completamente gratuiti ti suggerivo all'inizio del video ad esempio il software messo a disposizione dall'agenzia delle entrate dove ho creato già dei video dei tutorial dove ti faccio vedere passo passo come si compila una fattura sia nel caso in cui tu sia un libro professionista in gestione separata INPS sia nel caso in cui tu sia un libro professionista con un albo di appartenenza o nel caso di commercianti o artigiani ma anche nel caso di emissione di fatture verso clienti italiani o verso clienti esteri ti ricordo ti lascio qui un link in allegato al video dove ti faccio già vedere tutti i tutorial sull'emissione di fattura elettronica che dovrai fare dal primo gennaio del 2024 siamo arrivati quasi alla conclusione quindi di questo video spero che fino adesso sia stato interessante per te che ti abbia aiutato a comprendere come funziona il regime forfettario quantità se si pagano quanti contributi se si pagano se è conveniente o meno per la tua attività adesso però in quest'ultimo punto voglio parlarti di cosa posso fare per te e come posso aiutarti sia nel caso in cui tu stia decidendo di aprire una partita in regime forfettario sia nel caso in cui tu ne possegga già una mi sono già presentato all'inizio del video sono Gian Piero Teresi e per primo in Italia nel 2014 ho creato un servizio di contabilità completamente online per tutti coloro che in qualsiasi parte d'Italia decidono di aprire una partita IVA in regime forfettario posso occuparmi quindi di tutto ciò di cui si occupa di solito un commercialista classico ma con un grande vantaggio il fatto di lavorare completamente da remoto e di non avere mai la necessità di avere i miei clienti in studio quindi per te posso occuparmi esattamente di tutto posso occuparmi di provvedere all'apertura della tua partita IVA posso occuparmi di gestire la tua contabilità annualmente posso occuparmi di compilare e inviare la tua dichiarazione di erediti e naturalmente ti assisterò insieme al mio studio tutto l'anno tramite le nostre consulenze telefoniche quindi nel caso in cui dovessi aderire al mio servizio ed essere eseguito da me esattamente ecco i passaggi che compierò per te come primo passo mi occuperò di aprire la tua partita IVA e nel caso dei liberi professionisti questa avverrà entro 24 ore dopodiché ti insegnerò ad emettere le tue fatture ti fornirò quindi gli accessi al mio software di fatturazione tramite questo potrai quindi emettere tutte le tue fatture nel forfettario anche elettroniche è un software molto facile da utilizzare anche molto innovativo perché come ti dicevo ti darà già un calcolo presuntivo delle tasse dei contributi che tu pagherai su ogni fattura emessa sarai quindi aggiornato su tutti i futuri pagamenti non avrai mai sorpresi sui tuoi F24 dopodiché ci sentiremo una volta al mese faremo così un punto della situazione e poi una volta all'anno tra maggio e giugno invierò la tua dichiarazione di erediti da lì naturalmente verrà fuori quello che è il calcolo delle tasse dei contributi previdenziali e quindi ti invierò i modelli F24 già precompilati per poter pagare le tue tasse e i tuoi contributi questi F24 puoi pagarli semplicemente in autonomia tramite la tua home banking o direttamente sul portale dell'agenzia delle entrate ma anche lì ti supporteremo su tutto ti faremo vedere come vanno pagati come vanno compilati e quindi potrai adempiere a tutti i tuoi obblighi burocratici con semplicità il costo di tutto questo servizio sarà soltanto di 39 euro al mese già comprensivi di IVA che potrai pagare scegliendo tra tre tipi di abbonamento abbonamento trimestrale abbonamento semestrale abbonamento annuale e sul mio sito per cui il regime trattino come segno meno forfettario.it in alto c'è la sezione tariffe dove potrai scegliere l'abbonamento che più ti conviene e pagarlo direttamente online sul sito prima di lasciarti però voglio dirti che se dovesse avere qualsiasi dubbio sul regime forfettario o anche se dovessi essere interessato a scoprire un po' meglio come funziona il mio servizio ti lascio naturalmente il link al sito regime trattino come segno meno forfettario.it dove troverai un form di contatto che potrai compilare semplicemente inserendo il tuo nome cognome il tuo numero di telefono e sarò io stesso a richiamarti quindi offrirti una consulenza gratuita e cercherò quindi di chiarire così tutti i tuoi dubbi richiedi quindi già adesso stesso la tua consulenza gratuita sul mio sito in modo da chiarire tutti gli aspetti sul forfettario eventualmente chiarire anche quello che è il funzionamento del mio servizio e per qualsiasi cosa sarò a tua disposizione se ti è piaciuto questo video iscriviti al canale clicca sulla campanella in modo da rimanere aggiornato su tutti i miei futuri aggiornamenti su tutti i miei futuri video e ricordati che per qualsiasi cosa puoi richiedermi una consulenza gratuita grazie ancora di aver visto il video completo e spero davvero ti sia stato utile